Caro Ministro della Difesa, cara Elisabetta, ho ascoltato il tuo intervento al Question Time al Senato in occasione di un'interrogazione sulla questione del 2 giugno. Beh, che dire? Veramente deludente. Veramente deludente dopo le tante battaglie fatte nella precedente legislatura, quella dove eravate opposizione, concreta opposizione, poi diventata forza di governo avete provato la comodità delle poltrone e quindi tutto è passato nel dimenticatorio. Ma la parata militare l'avete lasciata, come tante altre cose, inutili, assurdamente inutili. La festa del 2 giugno, caro Ministro, è la festa della Repubblica, non è la festa dei militari, la festa delle forze armate è il 4 novembre. Facciamola finita con questa storia della parata militare, di far sfilare i militari, i Minus Sabentes, quelli a cui non riconoscete nessun diritto, tantomeno quelli sindacali ovviamente. Fatti sfilare per la gioia del popolo e dei generali, come in un circo. Bene, caro Ministro, dovevate eliminarla e avete perso un'occasione, l'avete trasformata in una pagliacciata, possiamo dirlo tranquillamente. Una pagliacciata. Le vittime del dovere fatte sfilare per che cosa? Quando non gli riconoscete alcun diritto, quando promettete e non fate una legge per riconoscere i danni che lo Stato gli ha cagionato. Lo Stato perché ce li avete mandati in missione, perché li avete utilizzati i militari per garantire ai cittadini italiani una difesa ma di che cosa? Missioni di pace ma di che cosa? Missioni di guerra per garantire ancora il commercio di armi, la produzione di armi, l'impiego di armi. Le carriere dei generali che si basano sulle missioni all'estero adesso. Caro Ministro, non ci siamo. Dovevate scoperchiare il Parlamento come una scatola di sardine? E vi hanno scoperchiati, con sei milioni di voti persi all'ultima tornata elettorale. E vi siete resi conto di essere più uguali degli altri, come gli altri, al punto da far rimpiangere persino i precedenti ministri della difesa, quelli amanti dei generali che detestavano la truppa, che la tolleravano. Beh, caro Ministro, non siete riusciti e non sarete mai in grado di cambiare questo paese. Vi resta semplicemente una cosa da fare, togliervi di mezzo. Sì, almeno quel poco di dignità che vi resta di quel 17% è da utilizzare per cercare di comprendere gli errori che avete fatto. Quando si promette una cosa al popolo e non la si mantiene, caro Ministro, si deve avere la forza poi di ammettere la sconfitta. Senza trincerarsi dietro il fatto, eh, ma c'è stato chi non è andato a votare. Perché chi non è andato a votare? Siete sicuri che avrebbe votato Movimento 5 Stelle? Ma quando mai? Scusi e banali per cercare di nascondere una disfatta. Bene, la sua disfatta lei l'ha avuta ieri al Senato durante il Question Time. Caro Ministro, per governare ci vogliono le palle. Non basta essere capitani della riserva per conoscere la difesa e i sistemi e i meccanismi che regolano l'ambiente militare. Per governare, caro Ministro della Difesa, serve coerenza. I militari avevano fiducia in voi, i militari speravano in voi per un serio cambiamento. Bene, non avete fatto nulla di quello che avevate promesso. Anzi, avete fatto completamente l'opposto. Avete continuato a mantenere privilegi per i generali, privilegi per le caste, per i cappellani e per quanti altri che voi, da banchi dell'opposizione, accusavate come il male dell'Italia. Bene, benvenuti nel mondo reale. Il Movimento 5 Stelle sarà la solita meteora che passa e poi scompare. Caro Ministro Trenta, lo vuoi ascoltare un consiglio da un vecchio maresciallo in pensione? Fai armi e bagagli e torna alla tua vita di prima, perché fare il ministro non fa più per te. Ha ragione Tofalo.